Eccellenza, dopo Comitini, Santa Elisabetta, Palma di Montechiaro o Ginaro, l'elenco si fa più lungo? Quello degli episodi danneggiamenti a scopo intimidatorio, a scopo di proprio di turbamento della serenità di chi poi amministra una comunità, purtroppo è è frequente, è una tipologia frequente di attività proprio così delinquenziale, la trovo particolarmente sgradevole, brutta, antipatica, uso parole assolutamente comuni, proprio perché mina la serenità di una persona, non solo quella persona, mina la serenità della famiglia di quella persona, è vergognoso che poi venga sostanzialmente rotto un equilibrio tra il mondo degli affetti, la famiglia della persona destinataria di quell'atto vile e gli altri impegni che sono in questo caso di carattere politico e amministrativo. Allora proprio questo brutto, bruttissimo segnale, bruttissimo modo di cercare di condizionare qualcun altro, ecco sono presente qui per manifestare al sindaco l'assoluta vicinanza da parte mia come ruolo e anche come persona, insieme alle forze dell'ordine, ulteriormente a ribadire oltre alla solidarietà alla persona vittima, a dire a chi commette questi gesti, sono gesti non tollerabili e sui quali ci si metterà tutto l'impegno possibile e immaginabile per cercare di capire, scoprire chi ne è l'autore o gli autori. Non solo la vicinanza eccellenza al primo cittadino ma alla sua presenza oggi qui testimonia come lo Stato è presente sul territorio. No, ma questo, lo Stato è sempre presente sul territorio, ci possono essere delle interpretazioni di distanza, di distacco, lo Stato è sempre presente sul territorio, lo è nelle sue varie componenti di carattere più, chiamiamolo così, politico-amministrativo come può essere il prefetto, la prefettura e tutti coloro che lavorano all'interno di questo sistema politico-amministrativo è presente sempre e costantemente lo Stato attraverso le forze dell'ordine, lo Stato c'è e lo Stato cerca anche di comunicare, di essere e di fare sempre coesione per la salvaguardia di questo territorio. Verranno potenziati i controlli? Ma questo sicuramente, ma ne faremo un momento di riflessione insieme alle forze dell'ordine prime risultanze e valuteremo il da farsi, ma tutto ciò che verrà valutato è nell'ottica di garantire serenità e sicurezza a chi amministra i cittadini e ai cittadini.